Siamo con la titolare signora Auviglia del Point Leggea Alecco, alla quale chiediamo. Oggi è stato sottoscritto un importante contratto di fornitura di materiale alla Calcio Alecco. Qual è la sua impressione? Io sono volata sinceramente di poter rappresentare la squadra della mia città. Siamo molto contenti di poter raffiancare questo progetto e io spero soltanto che ci siano dei buoni risultati e dei progressi perché comunque associati i meriti. C'è una squadra che merita di essere più in un modo di quello che è. Qui a Alecco quindi i tifosi ma non solo potranno venire a scegliere l'abbigliamento sportivo della Calcio Alecco per sentirsi più vicini alla squadra. Certo, noi a parte diciamo fianchere la società in sé, affiancheremo anche i tifosi. Questo sarà lo store della Calcio Alecco e potranno venire tutti a vedere sia il materiale tecnico che indosserà la squadra. Però voglio dire, ci sono anche tanti altri articoli che possono vedere. Noi comunque faremo proprio uno store dedicato appunto a tutto ciò che riguarda quello che metteremo i ragazzi. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori di Alecco Channel e un invito a venire al Point Leggea a Alecco, quindi a Letturati, per trovare l'abbigliamento sportivo della Calcio Alecco che permetterà a tutti di sentirsi più vicini alla squadra. Al Point ufficiale Alecco di Leggea con il signor Battazza che ha appena firmato il contratto di fornitore ufficiale Leggea alla Calcio Alecco e guarda questa scelta di Leggea. Perché questa società doveva essere fatta in pese, non vedo il motivo perché dovevamo andare fuori a Leggeo. Leggeo che sia qui vicino allo stadio, che qualsiasi cosa che abbiamo bisogno abbiamo 100 metri dello stadio. Io la prima volta che entro qui non mi sembra un negozio perfetto, però è un negozio perfetto. Adesso questa maglia è provvisoria perché grazie a Leggea siete riusciti a mettere in campo una maglia credita, però presumibilmente a breve ci sarà quella storica blu celeste. Adesso parliamo Alecco perché a qualsiasi momento che abbiamo bisogno, qualsiasi maglia che ci occorre, si fa qui insomma. E' inutile fare del limusine perché avendo un negozio qui vicino è la nostra portata di mano e a me mi sembra l'idea di essere a casa mia. Quindi un vantaggio anche per tutte le case che vogliono sostenere la Calcio Alecco il negozio qui a Alecco si può venire a acquistare le divise ufficiali della Calcio Alecco. Io spero che i ragazzi in questo modo tornino al campo perché noi, almeno io penso che se questo gruppo che dovrebbe partire, che partirà senz'altro, che noi non ci possiamo più formare, speriamo di portare a dentro il stadio e andare a tutti questi giorni all'Ecco. Dalla Pointe Leggea all'Ecco, Giuseppe Mazzolini per l'Ecco Channel, buona giornata. Grazie a tutti.